Salve a tutti e benvenuti a un nuovo webinar di SiteGround. Io sono Luca Rodino e sono il responsabile per il mercato e i servizi italiani di SiteGround. Come ogni mese siamo di nuovo qua a tenere uno dei nostri consueti webinar e questo mese parleremo di influencer marketing. Come al solito siete tantissimi, siamo oltre 700 iscritti anche questa sera e l'ospite che adesso porto subito qua online con noi è Matteo Pogliani che adesso comparirà. Eccolo, ciao Matteo, benvenuto. Allora, due parole di rito per presentare Matteo. Parleremo, come avevo detto, di influencer marketing. Ovviamente tutte le persone che sono iscritte lo sanno perché sono iscritte appositamente. Ma chi è Matteo Pogliani? Matteo Pogliani è la persona perfetta per parlarci di influencer marketing. Perché? Intanto perché è scrittore, nel senso che ha scritto due libri e vi dà Flaccovi Editore sull'influencer marketing. È il fondatore dell'Osservatore Nazionale sull'influencer marketing e poi è partner Head of Digital di Openbox, che è una sua azienda. Quindi diciamo che il profilo perfetto per narrarci quello che è l'influencer marketing che è qualcosa che tutti pensano come qualcosa di lontano. È difficile da applicare perché si pensa all'influencer come qualcosa di inarrivabile, di costosissimo. E oggi Matteo ci spiegherà un po' il funzionamento di questo sistema, un po' per tutti quanti. Faccio le solite precisazioni per il webinar. Il webinar durerà circa un'ora, si completerà di 40-45 minuti di presentazione di Matteo e i restanti domande che voi potrete fare online e alle quali ovviamente Matteo risponderà dal vivo. Tutte le domande per favore fatele nella sezione qua sotto, chiamata Ask a Question. e detto questo, l'ultima cosa che ricordo è che le domande non vanno fatte in chat perché altrimenti si perdono e che se non riuscite a seguire tutto il webinar dall'inizio alla fine non è un problema, perché siccome siete iscritti, domani riceverete la mail con la registrazione e le slide della presentazione di Matteo. Detto questo io ti lascio campo libero e ci rivediamo dopo per la sezione delle domande. Grazie Luca, grazie per l'introduzione che responsabilizza, diciamo. Condivido subito lo schermo, così. Eccolo qua. Eccoci qua. Oggi cercherò di illustrarvi meglio cosa sia l'influencer marketing possibilmente andando un po', diciamo, oltre i soliti luoghi comuni. Quando io ho iniziato a parlare di influencer marketing era in lontano 2015 e spendevo la metà del tempo degli speech e degli webinar a spiegare cosa fosse un'influencer. Oggi, diciamo, va un po' meglio, anche se il problema è che oggi ci sono un po' troppi luoghi comuni che tendono a non aiutare a comprendere bene lo strumento. Oggi cercherò di farvi capire quindi meglio cosa sia, vi farò vedere qualche dato, ma soprattutto vi farò vedere in maniera pratica come, diciamo, dare vita a una base di progetto. Cercheremo di essere sintetici, visto che il tempo non è tantissimo, però dovreste uscire da questo webinar con le idee un po' più chiare su come poter approcciare lo strumento. Andiamo per... Vi lascio qua i miei contatti e mi trovate anche su LinkedIn, quindi ben volentieri, se avete dubbi o domande anche successive, mi contattatemi o ci metto magari un pochettino a rispondere, ma sono... rispondo a tutti. Partiamo da una base importante, non è stato poco teorico oggi, però un minimo di intro va fatta. È difficile parlare di influencer marketing senza andare a definire bene cosa sia un'influencer. Ripeto, andando un po' oltre quei falsi miti che oggi, diciamo, fanno pensare influencer uguale, extronista, o omni e donne, o temptation item. Certo, anche loro hanno un importante riverbero online e quindi possono essere usati per progetti, però non è per forza detto che siano quelli. Partiamo da una definizione che nella sua banalità ci aiuta. Gli influencer sono individui che hanno il potere di avere... insomma, di influenzare le decisioni d'acquisto di altri grazie alla loro reale o percepita autorevolezza, conoscenza, posizione o capacità relazionale. Andiamo meglio a vedere quali sono gli elementi un pochettino più importanti di questa definizione, quelli che ci aiutano. Il primo è il più importante, probabilmente, che è l'affect, cioè la capacità di indirizzare le decisioni di acquisto. Quindi, quella che noi potremmo definire influenza, che è qualcosa di concreto, che sposta davvero, che ha un reale impatto su tutti gli utenti, tanti o pochi che siano. Infatti, il concetto non è mai quello di avere grandi fanbase o un alto numero di follower. Certo, l'audience è un elemento importante per alcune tipologie di progetti, come i progetti legati alla awareness, è rilevante. Ma il concetto di influenza è qualcosa che va al di là del numero. Quindi io posso avere una grande capacità di stimolare e indirizzare le decisioni altrui anche senza avere un grande seguito. L'altro elemento chiave è quello dell'autorevolezza, cioè quello di essere riconosciuti affidabili e autorevoli su un tema. Vi avevo scritto nella definizione reale o percepita perché a comandare è la reputation online, quindi non è tanto importante alla lunga diciamo che le bugie sul web hanno le gambe estremamente corte, però il concetto è quello che io faccio passare, quindi posso essere la persona più competente su una tematica in tutta Italia, ma se non riesco online a passare questo elemento difficilmente, quindi è fondamentale il concetto di percepita. Altro punto importante è la posizione, cioè non posso generare influenza senza un network di persone, ripeto, piccolo o grande che sia. Quindi essere centrali in una rete di persone è fondamentale, quindi qualunque influenza, ripeto, piccolo o grande che sia, avrà comunque un seguito su cui poter esercitare questa sua capacità di stimolare e indirizzare decisioni e questa autorevolezza. Ultima, ma non meno importante, è la capacità relazionale, cioè la capacità di voler relazionare, rispondere ai commenti. Anche qui è un elemento essenziale perché la maggior parte dell'attività di influencer è sui social e i social network, spesso ce li dimentichiamo, ma sono primariamente canali di relazione e contatto, quindi io posso essere la persona più competente su un argomento, ma se non mi relazionerò con i miei follower, alla lunga questi difficilmente continueranno a seguirmi. Detto questo, vi ripeto, ci sarebbe molto altro da dire, ma ho cercato di essere più trasversale possibile, di toccare più punti possibili, quindi diciamo che mi interessava darvi delle lucidazioni un po' piccare sul tema dell'influencer senza poter però andare troppo nei dettagli. Andiamo a definire quindi cos'è invece adesso l'influencer. Abbiamo capito che l'influencer quindi è una figura che ha questa capacità di influenzare, che la sua autorevolezza, il personal branding, la sua conoscenza ha generato un suo posizionamento forte, una reputation tale che gli permette di essere centrale in un network e quindi generare questa influenza e che la genera anche con la capacità relazionale. Quindi, ripeto, non stiamo assolutamente parlando esclusivamente di celeb, VIP o extronisti. Ma cos'è quindi l'influencer marketing? Abbiamo cercato appunto di finire bene un po' meglio cos'è l'influencer, l'influencer marketing cos'è? Anche qui potevo toccare mille definizioni, partiamo da una in modo da avere un punto di riferimento poi l'andiamo a sviscerare. L'influencer marketing è una forma di marketing basata sull'identificazione delle persone che hanno capacità di influenza su potenziali target. Le attività sono incentrate conseguentemente su queste persone che sono gli influencer appunto, così che possano in autonomia influenzare il grande pubblico. Anche qui andiamo a sviscerare un po' questa definizione. Quali sono i punti cardini? L'identificazione, cioè trovare le figure, gli influencer più adatti alla nostra realtà. Dopo vedremo in che modo. Se la persona giusta al posto giusto è importante in tutte le attività, nell'influencer marketing è assolutamente vitale. Secondo punto, il focus su persone influenti. Si sfruttano le qualità di questo influencer che abbiamo identificato per intermediare la comunicazione con i nostri target, per raggiungere con un impatto maggiore proprio per queste qualità riconosciute degli influencer i nostri utenti, i nostri target. Autonomia, un punto chiave. Si lascia che sia l'influencer a comunicare con il suo stile, il suo approccio, il suo background, la sua competenza. Questo non perché siamo bravi, simpatici e etici, ma è perché solo così riusciremo ad avere un impatto, perché lui ha raggiunto quella posizione, quella autorevolezza, gli ha riconosciuta a quell'impatto sui suoi utenti perché ha quel tipo di comunicazione, quel tipo di approccio. Noi prendiamo un influencer celebre per il tono ironico e gli facciamo fare dei contenuti seriosi e viceversa, difficilmente la nostra campagna sarà performante. Quindi lasciare, dovremmo comunque mantenere un controllo, altrimenti fidatevi se era dura portare a casa un progetto, lato brand, ma è fondamentale comunque lasciargli un certo tipo di autonomia perché si possa esprimere. Ripeto, è perché questo suo stile è quello che ha impatto sugli utenti, quindi dobbiamo cercare di lavorare il più possibile, lo vedremo dopo, in sinergia. Quindi noi brand, dando quegli giusti stimoli, lato brief, per fare qualcosa che possa portare valore all'azienda. Lato influencer, lasciandogli quella libertà di potersi esprimere e dare sfogo al suo valore, al suo posizionamento online. Calcolate, questo vale ancora di più nelle nuove piattaforme come Twitch e TikTok dove gli stilemi e lo stile di comunicazione è molto particolare ed è molto difficile spesso affrontare questo stile da parte dei brand. Quindi i creator che hanno invece nel DNA quello stile sono il modo migliore per creare contenuti che abbiano impatto, tant'è vero che in TikTok, vi faccio un esempio, spessissimo quando io gestisco facciamo le campagne a livello internazionale, nazionale e internazionale, oltre che far pubblicare il contenuto dal talent, dal creator sul suo canale, spesso vengono presi i diritti di utilizzo di questo contenuto per utilizzarlo come contenuto per l'advertising del brand, proprio perché hanno quello stile perfetto che si sposa idealmente con le caratteristiche richieste dalla canale e che gli utenti si aspettano su questa piattaforma. Ma qual è il vantaggio dell'influencer marketing? Che è una sorta di rapporto democratico, si va a creare un rapporto tra le parti che è democratico, che si sviluppa orizzontalmente tra i soggetti, quindi c'è il brand, ci sono gli utenti e c'è di mezzo l'influencer che tra virgolette media, grazie alla sua competenza, alla sua autorevolezza, ma soprattutto al suo trust, alla sua credibilità, media la comunicazione, svestendo questa comunicazione grazie a queste sue qualità riconosciute di gran parte delle sovrastrutture commerciali. Diciamo che il classico contenuto che il brand vuole fare, che è il famoso accattateville, cioè compra, 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 intermediato dall'influencer ha un impatto e un peso diverso, avendo quindi maggiori risultati per quanto riguarda l'impatto sugli utenti finale. È un contenuto che appunto grazie a questa mediazione fa un qualcosa eccezionale, cioè diventa un attivatore di conversazione e dialogo prima e conversazione e dialogo sono la base per poi attivare relazioni, quindi l'influencer marketing, se dovessi dire qual è il migliore elemento, è proprio questo, è un attivatore di conversazione attorno al brand e al prodotto, conversazioni positive e qualitative che possono essere poi driver importanti per generare relazioni. ricordiamo che è molto più facile rivendere più spesso alla stessa persona che non a persone nuove, quindi il valore della relazione noi ce lo siamo un po' persi soprattutto i brand sui social vedendoli molto più ormai come mezzi di comunicazione spesso addirittura ancora come mezzi di vetrina o come semplici strumenti di advertati ma in realtà mantengono volendo tutti quei valori aggiunti che erano figli degli internet media cioè il valore appunto di essere canali dove si attivavano conversazioni orizzontali e diciamo con direzioni multiple quindi io brand posso parlare ma anche l'utente può rispondere e soprattutto dove si possono far nascere delle relazioni importanti ma vediamo qual è lo scenario dell'influencer marketing in Italia giusto per darvi un contesto noi come Onin facciamo come osservatorio facciamo un sacco di report ogni mese andiamo a analizzare su Instagram e YouTube tutti i post nati da collaborazione tra brand e creator come facciamo andiamo a mappare attraverso attività di web listening quindi andando a fare quello che viene chiamato ascolto della rete tutti i post che hanno gli hashtag considerati compliant da regolamentazione dello IAP quindi tutti quei post che hanno quegli hashtag che per regolamentazione per essere a norma di legge devono essere inseriti da parte degli influencer quindi AD ADV advertising gifted by collabs e così per farvi un esempio di quanta è grossa l'attività al lato Italia si parla di un mercato che è stato definito in dai dall'UPA in un evento di UPA lo scorso mese di 270 milioni di euro pensate quanto è grande vi faccio un esempio il mese scorso che settembre non è un mese poi così enorme noi abbiamo avuto oltre 22 mila post in collaborazione tra brand utente vi ripeto qui noi andiamo a mappare solo quelli che usano gli hashtag regolamentati quindi ce ne saranno tanti altri per fortuna la regolamentazione ormai è estremamente condivisa quindi non ce ne perdiamo ma sicuramente c'è tanti post ci sono comunque un buon numero di post che sono fatti in maniera furba dai creatori brand e quindi non hanno questo tipo di hashtag quindi in realtà sono molti di più i post possono essere di più i post nati in collaborazione però per farvi un'idea solo nel mese scorso sono state oltre 22 mila hanno generato oltre 19 milioni di interazioni questo per farvi capire qual è il peso provate a immaginare quanti sono 22 mila 400 post fatti in questa maniera solo a settembre in instagram aspettate che non si è bloccata in youtube invece sono stati 1200 calcolate che l'attività youtube è un po' minore non perché youtube non sia un canale idoneo all'influencer marketing anzi è un canale che ha visto affermarsi il tema dell'influencer che ha un impatto enorme l'attento ovvio che ci siano meno progetti perché i progetti su youtube sono molto più complessi e sono molto più costosi essendoci dei mezzi video quindi tendenzialmente se ne fanno meno però pensateci lo scorso mese ce ne sono stati comunque 1200 video che vengono definiti che sono stati taggati con gli hashtag della regolamentazione che hanno generato oltre un milione e settecento un milione e settecento mila interazioni anche qui l'impatto è notevole la puntata potenziale di utenti raggiunti da questi video di oltre 33 milioni di utenti solo in Italia questi dati giusto per farvi un esempio giusto per contestualizzarvi ulteriormente a dicembre dell'anno scorso che dicembre è forse il mese più forte diciamo con le feste sono state oltre 33 mila dei post in Instagram con regolamentazione questo per farvi capire che è uno scenario enormemente un mercato quello italiano che è ancora in fortissima crescita è un mercato che è molto cresciuto anche come consapevolezza negli ultimi anni ma è un mercato che ancora non è maturo al cento per cento io lo vedo soprattutto lo vediamo dai dati ma lo vedo molto ancora dai progetti che vedo in giro che mi vengono richiesti dai brand sicuramente però è un mercato che si è fatto tanto come qualità dei progetti e come soprattutto utilizzo calcolate che come Onim noi con il report uno dei report principali che facciamo è quello che viene dove andiamo a intervistare brand e marketer cioè chi i professionisti che usano influencer marketing nell'ultimo report oltre il 70% degli intervistati si dichiarava da soddisfatto a molto soddisfatto delle campagne e quasi il 50% degli intervistati voleva aumentare il budget dedicato all'influencer marketing quindi è sicuramente uno strumento che è diventato sempre più chiave è diventato ormai veramente un elemento se prima era un add-on adesso è diventato diciamo parte integrale di una di una strategia digitale completa andando budget destinati sono molto molto ingenti vi posso dire e spesso sono quasi sono una fetta importantissima dell'investimento che viene fatto in media vi citavo per esempio infatti questi dati appunto quasi l'80% degli intervistati appunto era da soddisfatto molto soddisfatto e il 47,42% degli intervistati come vi vi dicevo è è comunque dichiara di voler aumentare il budget destinato perché l'influencer marketing però perché c'è questa crescita importante di budget perché tante persone si ritengono soddisfatti tanti professionisti vi potrei citare anche qui tanti dati vi cito una ricerca fatta da Ipsos un anno fa che secondo me è molto interessante che ci presentava dei dati italiani molto interessanti il 68% degli italiani presenti sui social network ha tra i propri interessi quello di seguire influencer o celebrity un dato discretamente importante un dato che però sale all'82% tra i più giovani cioè quelli gli utenti tra i 16 e 24 anni quindi i creator saranno sempre più centrali perché sono centrali nella vita degli utenti e in quelli più giovani ancora di più ma saranno sempre più centrali perché sono le piattaforme che si stanno diciamo crescendo come numeri e utilizzo oggi giorno a essere creator centric basta pensare a TikTok e Twitch dove il ruolo del creator se già è importante anche in Instagram e YouTube sia chiaro ma in TikTok e in Twitch è ancora più rilevante ma andiamo ancora in profondità due italiani su tre quindi il 66% hanno comprato più volte qualcosa che è stato promosso dagli influencer che seguono quindi quell'affect di cui parlavamo prima quindi non sono solo un driver di impression e di interazioni come tanti troppi pensano e come tanti brand sulla base di cui tanti brand strutturano il progetto ma quando sono selezionati bene e si coinvolge gli influencer giusti quelli che appunto hanno questa capacità di avere un reale impatto concreto sono anche forieri driver di vendite qualcosa di cui ci accorgiamo ancora di più perché l'eredità cinese quindi quello che viene chiamato social commerce quindi le live con possibilità di fare check out direttamente sui social è qualcosa che sta arrivando anche da noi in Cina è un trend spaventoso c'è gente che ci sono influencer che in un'ora spolverizzano le tre mesi di magazzino da noi stanno arrivando stanno arrivando le funzionalità sia in TikTok che in Instagram negli Stati Uniti ci sono già e quindi il social commerce sarà sempre più rilevante è importante però dire che due italiani su tre mi sono ho fatto un copio ancora scusate sbagliato il 60% di questo 66 che ha comprato più volte vi posso dire però ci mette anche qualche mese a comprare questo cosa vuol dire questo è un dato importante perché ci fa capire come il processo d'acquisto degli utenti quando si parla di influencer è molto più liquido rispetto allo standard quindi è molto importante quando si fa monitoraggio non applicare le finestre d'attribuzione che si è solito applicare applicare per esempio per l'advertising perché ha un earn and need all'influencer quindi lavora con i suoi contenuti a un livello basso e crea quel substrato informativo che pian piano va a migliorare la reputation e la percezione del brand qualcosa che quindi non può essere diretta ovvio che ci sono influencer che fanno un post oggi e domani vendono mi viene in mente senza tirare fuori Lanferrani mi viene in mente Paola Turani Kileo Makeup Kami Oak che sono veramente dei driver ma nella media gli influencer hanno comunque un apporto fondamentale a livello diciamo a livello di tempo medio spesso il loro impatto essendo internet media lavorando su reputation e percezione va a migliorare anche le altre nostre attività quindi tutto questo incremento reputation poi va a migliorare anche il risultato spesso dell'advertising chi utente se vede un tuo banner dopo aver visto dei contenuti fatti da un influencer che per me è centrale autorevole e competente migliorano questo è importante se io voglio vendere domani immediatamente tendenzialmente è molto meglio fare advertising diciamo che in un progetto comunicazione strategica digitale ovviamente ampio c'è spazio per tutto anche per gli influencer ma anche per il resto gli influencer qui lo dico anche se io vi parlerò di influencer marketing dovrei tirare e tenere alta la bandiera di questo strumento l'influencer marketing non è la risposta a tutti perché quando io senti Brian parlare di influencer marketing che viene destinato magari il 60 70% del budget a me mi si ho la pelle d'oca perché comunque non sono la risposta funzionano bene sono ormai uno strumento proprio anche per la natura stessa del loro impatto sugli utenti per la natura stessa dei canali qualcosa di irrinunciabile ma non sono la risposta a tutti i perché influencer tra l'altro è interessante perché lavorano bene su tutti gli stage della awareness stage diciamo sulla l'approccio degli utenti quindi lavorano bene nella fase di unaware cioè dove l'utente non sa di avere un problema ancora quindi magari vedono un posto di utenti e dicono anche io questo di un influencer e dicono anche io questo problema nella fase di problem aware quindi l'utente conosce il problema ma non la soluzione nella fase di solution aware dove l'utente sa che esiste la soluzione ma non ha ancora il quale prodotto sia necessario fino alla fase di product aware dove l'utente conosce il prodotto e fa confronti allora lì il parere credibile distaccato e autorevole parliamo di influencer con un certo piglio è molto importante per indirizzarmi sul prodotto A, B o C ma detto dovrei avervi convinto che è funzionale influencer marketing come possiamo impostare un progetto andiamo un po' più nel concreto quali sono gli step decisivi per un buon progetto sicuramente fissare gli obiettivi perché si parte sempre da quello è comunicazione come tutte le attività di comunicazione si parte da lì obiettivi concreti aziendali lavorare in ottica data driven quindi lo vedremo selezionando l'influencer in maniera legandosi agli insight non perché uno ci sembra simpatico divertente ma guardando che i suoi dati siano fitti nel meglio possibile con l'esigenza del brand e le caratteristiche del nostro buyer persona dopo vedremo meglio come lavorare su un concept creativo che vada oltre mandare il prodotto all'influencer e fargli fare un selfie o un unboxing soprattutto oggi gestire l'influencer quello che viene chiamato influencer management dandogli lavorando in sinergia dandogli quindi sì la giusta creatività ma controllando il progetto usandoli come strumento anche di come strumento che lavori in maniera sinergica con l'advertising lavorando su una corretta misurazione e soprattutto rispettando le regole perché queste non solo ci permettono di non incorrere in multe ma ci permettono di avere delle campagne che sono eticamente corrette e dare un senso di trasparenza e fiducia che va a migliorare le performance del progetto ma soprattutto a non danneggiare la reputation del brand oggi purtroppo non riusciremo a vedere tutti i punti ma cercheremo di vedere i principali dico che si parte sempre dagli obiettivi sì perché quelli condizionano la scelta del canale condizionano la scelta del concept ma soprattutto condizionano la scelta dell'influencer l'influencer marketing è molto trasversale come obiettivi ci può supportare in diverse tipologie di obiettivi da quelli più meno complessi come le attività di award quindi aumentare la conoscenza del brand fino a obiettivi più complessi come fare lead generation migliorare la reputation del brand umanizzare il brand quindi dare un senso più umano al brand fino a quello più ricercato che è quello di incoraggiare all'acquisto dicevamo che si parte da qui anche nella selezione perché difficile fare rispondere a un obiettivo di awareness con i nano influencer perché il loro la loro reach potenziale gli utenti che possono raggiungere è limitata quindi i nano influencer perché sono tendenzialmente molto più credibili e spontanei viceversa sono perfetti per incoraggiare l'acquisto o umanizzare il brand i micro influencer quelli che vengono chiamati skill ed user quindi gli esperti di settori sono importanti per dimostrare la leadership di un brand per migliorare la brand reputation o per lavorare durante la crisis management i power user quindi quegli utenti che uniscono competenze alta audience mi viene in mente Aranzulla la Chiara Maci Cleo Makeup ci aiutano nella awareness perché iniziano ad avere delle fanbase di un milione di follower molto ampi ci aiutano però anche a fare lead generation grazie alla loro competenza e alla loro autorevolezza a incrementare la brand reputation fino alle celebre quindi ai beat che ci aiutano ovviamente in progetti in obiettivi come quello da awareness visto le loro ampie platee ma anche a incoraggiare l'acquisto non perché siano ritenuti autorevoli e competenti perché in molti casi l'attaccamento della loro fanbase è una fandom quindi è una è una fanbase fatta di fan e quindi in questo caso scattano meccanismi di emulazione io non compro una borsa o un paio di scarpe perché penso che Rihanna sia competente che quindi se le ha scelte le siano di valore le compro perché sono le scarpe di Rihanna io voglio essere come Rihanna perché sono una fan l'emulazione ha una vita spesso breve ma è molto forte in quel momento quindi spesso spinge in maniera enorme gli acquisti per realizzare un concept parlavamo di concept creativo è fondamentale capire cos'è un concept e capire come poterlo realizzare al meglio quando parliamo di concept non vuol dire inventarsi l'headline non è noi non facciamo il pubblicitario in questo caso non è l'headline geniale o la grafica bella ma è capire come piegare le qualità degli influencer e le caratteristiche della piattaforma e dei formati presenti nella piattaforma che sia un card o un reel un video TikTok un video su YouTube agli scopi agli obiettivi del brand tutto questo creando un fil rouge che permetta di dare un senso completo complessivo all'attivazione di più influencer iniziale calcolate che molto spesso il concept dei campani influencer marketing noi dobbiamo cercare di fare tutto questo rispettando magari un concept più alto perché magari l'influencer marketing in quella fase è parte di un'attivazione più ampia quindi in un progetto cross channel molto grande dei brand come succede oggi ci sarà la dv ci sarà l'affissione ci sarà la tv e ci sarà anche l'influencer marketing quindi lì è ancora più complesso perché dobbiamo adattarci adattarci cercare il giusto concept per i nostri influencer il nostro canale rispettando comunque anche il cappello generale uno dei modi migliori per capire come fare è ascoltare e comprendere il contesto in questo ci aiuta tantissimo per esempio l'analisi delle conversazioni online che ci permette di capire quali sono gli elementi che muovono che muovono le conversazioni degli utenti attorno a un brand o un prodotto vi faccio un esempio concreto questa è un'analisi delle conversazioni online le keyword i temi più discussi relativi alle barrette kinder se voi vedete uno degli elementi che emerge maggiormente questo è l'analisi fatta solo sul femminile uno degli elementi che è più iconico delle tematiche più connesse alle barrette kinder è il ciclo provate a pensare come questo driver delle conversazioni potrebbe essere utile per generare un concept creativo di campagna io probabilmente sceglierei solo delle influencer donne e magari creerei un concept in cui andrei a parlare di come la barretta kinder non è buona o golosa o altro ma come che è qualcosa di sostegno alle utente femminili in quel particolare periodo del mese sto creando conversazioni sto creando una relazione forte perché vado a rispondere vado a ascoltare l'esigenza degli utenti dell'utente dei miei target e vado a creare un progetto che sia di sostegno mi faccia sentire partecipi mi faccia sentire crei affinità grazie attraverso la mediazione degli influencer crei affinità tra brand e utente finale questo è un altro esempio questa è una conversazione oggigiorno le conversazioni fra l'altro l'analisi delle conversazioni si possono fare attraverso il machine learning posso insegnare alla macchina a categorizzare queste informazioni vi faccio un esempio questa è un'analisi su Nespresso negli Stati Uniti facendo questa analisi Nespresso capì che c'era una piccola fetta di conversazioni piccola ma molto continua e dall'alto volume di engagement che era dovuta agli utenti diciamo ai viaggiatori per lavoro che facevano dei contenuti online tweet post facebook instagram molto positivi quando arrivavano nella loro stanza d'albergo per passare la notte appunto questi viaggi di lavoro e trovavano nella loro stanza d'albergo da poter utilizzare quando volevano la macchinetta Nespresso anche questo se ci pensate è un driver che può spingere tantissimo anche l'idea creativa perché in questo caso Nespresso poteva fare un progetto legato all'hotellerie o al valore del ti sostengo quando sei fuori casa ti faccio sentire a casa vi sto facendo degli esempi molto concreti ma per farvi capire tutto questo perché perché è difficile essere creativi e generare impatto sugli utenti finali senza ascoltarli senza capire qual è il loro pain e ricordatevi sempre che quando noi rispondiamo alle loro necessità che siano molto concrete quindi come imparare a cucinare o allenarsi a casa ma anche quando sono più leggeri perché anche volere volere essere intrattenuto mezz'ora dopo una dura giornata al lavoro è comunque un'esigenza quindi ben venga il video divertente di De Giacalo di Casa Surace per farvi un esempio rispondere alle esigenze degli utenti è la miglior forma di influenza sempre e se faremo quello siamo sicuri di avere impatto sugli utenti andiamo avanti questo l'abbiamo già detto cosa considerare quando lavoriamo su un brief gli obiettivi dei brief di campagna perché dobbiamo rispondere a quelli la big picture di campagna capire quindi se c'è un cappello più alto e quindi dobbiamo essere capaci comunque a integrarlo capire quali sono i quali sono e quali caratteristiche hanno i formati le tipologie di attivazioni social esempio se io voglio fare una campagna che porti traffico su un e-commerce su Instagram devo sapere che i post Instagram non posso inserire dei link cliccabili ma che lo potrò fare solo con le stories quindi inutile fare una campagna che prevede i post Instagram dovrò fare una campagna che veda centrale le stories giusto per farvi degli esempi facili e soprattutto capire i trend che come in qualunque attività di comunicazione cavalcare i trend permette di massimizzare l'impatto l'esposizione della mia campagna facendola sentire anche più affine al momento all'utente che vede che è bombardata da questo trend e che quindi lo sente maggiormente suo quindi ci permette di creare qualcosa che abbia un linguaggio ancora più comprensibile per l'utente come vi dicevo l'utilità cioè rispondere alle esigenze degli utenti resta la forma più potente di influenza non dimentichiamocelo mai quando creiamo un concept abbiamo già detto brevemente ripeto il tempo è quello che è come sia importante dare un'esigenza creativa ma che sia anche concreta al concept di campagna vediamo anche adesso invece come selezionare gli influencer che possano dare forma a questo nostro concept ci sono due fasi principali la prima è quella dell'individuazione quando cioè io farò delle ricerche con diversi mezzi che adesso vi illustrerò per capire per fare una sorta di prima scrematura dei creator degli influencer che possono essere più idoni la seconda è quella di selezione andrò a analizzare diversi elementi di questi influencer che io ho potenziali che ho trovato per capire quali io voglio coinvolgere partiamo dalla fase di individuazione esistono molti strumenti i migliori strumenti sono quelli data driven cioè che permettono di leggere i dati quindi sono creati apposta e quindi sono i tool quelli che vengono chiamati influencer marketing tool sono tool appagamente non costano poco ve lo dico già che sono nati e pensati per rispondere all'esigenza di selezione e analisi dei profili per chi fa influencer marketing esistono però altre metodologie meno professionali con risultati peggiori ma che comunque possono essere fatte quando io ho poco budget per esempio google google attraverso delle ricerche online posso comunque in parte fare qualcosa i motori di ricerca dei social network quindi lavorare con i motori di ricerca magari attraverso la verifica di hashtag o comunque keyword mi permette in parte di avere di evidenziare dei profili potenzialmente interessanti le liste online che spesso hanno il problema di non essere costantemente aggiornato e magari di proporci dei nomi che erano in erano forti qualche qualche magari mese fa e non lo sono adesso l'attività di social listing cioè capire le conversazioni online su un tema e chi le genera ma anche guardando spesso appunto a parte influencer marketing tool guardare i competitor quindi guardare chi ha usato un competitor magari nel lungo periodo possono evidenziarci dei creator da utilizzare vi faccio un tips un piccolo trucco che per chi non ha dei tool di influencer marketing ma vuole fare ricerca attraverso google andiamo su google impostiamo la preferenza per mostrare 100 risultati da forza quindi nella barra digitiamo aperte virgolette le virgolette servono k spazio followers chiuse virgolette spazio site due punti instagram.com blogger con questo sistema questa query ci presenta google ci dirà dei risultati che presentano la parola blogger nella bio e che sono su instagram e che abbiano oltre 10.000 followers se io posto i blogger metto food mi troverà i profili che hanno oltre 10.000 follower su instagram e che hanno nella bio la parola food runner fitness possiamo farlo così per tutti è un piccolo escamotaggio non perfetto che vi permetterà comunque di avere di individuare di fare un minimo di individuazione vedremo dopo i tool di influencer marketing io dovrei avere così la mia devo avere grazie a queste metodologie scremato la mia lista devo capire però adesso quale scegliere bisogna fare delle analisi delle analisi approfondite basate sui dati non è che sceglie uno perché ha i capelli rossi e simpatico fa dei contenuti che mi sembrano belli devo guardare i loro dati capire quanto sono aderenti alle necessità del brand ma soprattutto alle buyer personas del mio cliente quindi se la fanbase di questo influencer è per lo più under 18 e le mie buyer personas è over 30 mi potrà sembrare pur interessante ma non lo sarà vediamo un po' un paio degli elementi che vanno valutati la prima appunto è l'audience audience intesa non come numero di follower ma come caratteristica profonda dell'audience vi faccio un esempio cioè andare a vedere quanto è la sua la sua reach perché il fatto che abbia come questo caso è Simona Salvemini un ex GF lei ha 327 mila follower ma sapete benissimo che i social network c'è un algoritmo che comanda la visibilità dei contenuti e non è che lo fa vedere a tutti i miei follower lo fa vedere a una percentuale quindi anche in questo caso vi dico varia molto ci sono influencer la cui true reach è molto vicino al numero di follower ce ne sono altri come in questo caso 327 mila follower il suo contenuto ne sarà visto solo da 46 mila follower vedere le interazioni vedere con che brand ha collaborato ma soprattutto lato audience vedere i suoi dati interni quindi fatto sta questi 327 mila follower quanti sono tra i 25 e i 34 anni quanto tra i 18 e i 24 quanti sono donne e uomini quanti sono locati in Italia perché io potrei scegliere un influencer mi sembra super idoneo per un progetto in Italia ma magari c'è solo il 20% di follower italiani non è un problema calcolate comunque questi dati i dati sono ottimi consiglieri e pessimi decisori vanno sempre contestualizzati per esempio un influencer travel ci sta che abbia solo il 40% di follower italiani non è drammatico perché facendo post spesso con hashtag e geolocalizzazioni in luoghi esteri è normale ovvio che per un food blogger magari avere sotto il 60% di follower italiani non è il massimo della vita giusto per farvi un esempio questo possiamo farlo non solo in Instagram ma anche in TikTok è ovvio che io devo scegliere gli influencer grazie a queste caratteristiche che devono essere vicine alle caratteristiche della mia buyer persona quindi se la mia buyer persona è tendenzialmente donna tra i 18 e i 24 molto probabilmente per esempio questo profilo potrebbe andare bene giusto per farvi un esempio la capacità di engagement cioè quanta riesce a coinvolgere gli utenti inteso non solo come engagement rate ma dando dei pesi diversi alle interazioni un like non vale quanto un commento e anche qui bisogna fare comunque una valutazione più qualitativa perché un commento con un emoji o un commento off topic cioè che non parla del post non vale quanto commento che parla di un post vi faccio un esempio di come si può analizzare grazie ai tools influencer marketing questo per esempio questo è camioc con l'engagement medio per ogni post in modo da capire quanto produca però bisogna andare in profondità come vi dicevo questo per esempio è un esempio su tiktok abbiamo addirittura un paragone questo è Ivan Zeiser il palavolista sulla media di un profilo con i numeri simili ma bisogna andare in profondità questo è un post della Simona Salvemi che vi dicevo prima se io guardassi qui 33 commenti e 3000 like è un post che ha interagito bene buona capacità di interazione ma andando in profondità vedremo che la maggior parte di questi commenti è maglia Levis disponibile da noi lei sta sponsorizzando Fitvia questo prodotto per dimagrire non la maglia tu non ne hai bisogno mica bene di che marca sono gli occhiali aiuto e che la signorina è molto hermosa quindi parliamone è utile questo no quindi anche qui va fatta una valutazione quindi alcuni tool ci permettono di valutare il sentiment dei commenti e quanto questi commenti siano emoji o siano off o non topic perché ovviamente più sono un topic più è importante più hanno peso la eco la capacità cioè di rendere virale un messaggio qualcosa che non è facile sempre da misurare però anche qui possiamo vederlo per esempio se all'interno dei follower l'influencer ha a sua volta degli altri follower c'è grande possibilità che magari questi riprendano il contenuto dell'influencer dandogli ancora maggior viralità la competenza un elemento che ovviamente è molto desk nessun tool ci dirà quanto è competente su un argomento un influencer questa è un'attività che dobbiamo sederci noi e valutare leggendo quello che produce guardando i suoi video guardando le sue immagini sapere qual è il grado di competenza è ovvio che il grado di competenza è importante sempre ma avrà un valore più o meno grande a seconda del progetto ovvio che se devo fare un progetto di lead generation magari devo chiedere devo lavorare a un ebook o a un white paper o su webinar fatto a quattro mani con l'influencer per generare lead è ovvio che la competenza in quel caso è decisiva in una campagna di awareness magari non sarà così decisiva affinità capire quanto si avvicina l'influencer per tono stile approccio al brand e agli utenti finale anche questo è fondamentale anche qui è un tipo di attività che serve comunque un'analisi desk bisogna metterci nella nostra valutazione umana però è possibile farci dare una mano molti tool di influencer marketing infatti ci dicono quali sono i brand e le tematiche a cui l'influencer affine ma ancora meglio quali sono i brand e le tematiche a cui sono affini i followers l'audience del creator questo ci aiuta a capire meglio se è idoneo ed è affine anche a noi e al nostro pubblico quindi questi tool sono di grande aiuto la reputation noi quando lavoriamo con un influencer demandiamo il volto dell'azienda all'influencer tutto quello che farà nel bene ma anche nel male andrà a colpire l'azienda quindi è molto importante valutare un influencer perché se lui farà qualcosa di negativo avremo un riverbero negativo per fare questo esistono dei tool l'analisi delle conversazioni online ci permette di vedere cosa viene detto relativamente a un influencer ma spesso basta fare una ricerca su google del nome del creator andando a vedere magari le ultime due pagine o la sezione notizie se è successo qualcosa di grave come guido in stato di ebrezza fermato per droga non so sto sparando sicuramente lo troveremo sicuramente è utile fare un'analisi di conversazione online questo è un esempio di un cliente mio che voleva lavorare con una VIP a tutti i costi io usando twitter avevo letto che era stato il grande fratello VIP ospite aveva creato c'erano stati contenuti estremamente negativi su twitter io ho fatto questa analisi delle conversazioni come vedete difficile lavorare con un influencer che ha oltre il 27% dei contenuti che parlano di lei negativo che ovvio che porterà anche se parlerà di tutt'altro e faremo dei contenuti bellissimi il rischio che questa crisi reputazionale venga rispostata anche sui contenuti del brand è molto alto quindi sempre meglio non rischiare vedere anche le collaborazioni passate non solo con chi ha collaborato per vedere di non scegliere degli influencer che hanno appena collaborato con un competitor ma capire quanto performa quando fa un contenuto in collaborazione con un brand che può fare tantissime interazioni quando è un post normale ci sono influencer che fanno hanno dei salti grossissimi tra capacità di interazioni in un post normale e quelle col brand ci sono altri che invece hanno dei risultati molto simili capire questo è rilevante calcolando che ovviamente anche qui ci sono influencer che è normale che collaborano spesso con competitor se uno è un esperto di vino è difficile chiedergli di non collaborare con altri vini nelle prossime settimane perché lui può semplicemente parlare di vino quindi anche lì bisogna essere elastico viceversa se è un influencer lifestyle e magari fa una collaborazione con un'auto elettrica magari è più normale non scegliere qualcuno che ha parlato un mese fa di un'altra auto elettrica anche in questo caso ci vengono incontri i tool di influencer marketing che ci dicono questo esempio di Fredez con quali altri brand ha collaborato e soprattutto possiamo andare a vedere lo stile dei contenuti che fa quando parla di un brand e le interazioni medie ci sono tool come per esempio in FLEAD dopo lo vedremo che parla che è un tool di influencer marketing che addirittura non solo ci dice con chi ha collaborato ma ci fa vedere qual è le performance rispetto alla me alle performance standard organiche dell'influencer quando fa dei post in cui non non sponsored non in collaborazione ma quando comunque parla all'interno di un post di un brand o quando fa un contenuto proprio in collaborazione cioè AD AD ADV quindi in collaborazione questo è molto rilevante altro elemento importante è il contesto cioè capire come lavora l'influencer e come il suo approccio può sposarsi dalla campagna che sto creando è qualcosa difficile da definire è difficile da valutare è qualcosa che dobbiamo essere bravi noi a valutare respirando il social e continuando a vedere come questi influencer magari nelle settimane in cui li stiamo nell'azienda si muovono questo è fondamentale per capire un po' meglio il creator vi ho parlato tanto di questi tool dedicati vi cito alcuni dei più importanti vi ripeto purtroppo lavorando con l'API dei social hanno costi molto elevati però se si vuole lavorare in una certa maniera è consigliabile o comunque se no affidarsi a agenzie come la mia o come altre sia chiaro che utilizzano questi strumenti clear per esempio è uno di quelli che usiamo molto valdo IQ data uguale lavorano tutte e due IQ data addirittura lavora anche su TikTok Bazzu Discovery che è un tool italiano ACU che è un tool danese molto interessante e Inflid che è il tool che vi ho fatto vedere prima che è una start up di 3S è un tool con un ottimo rapporto con questo performance ho voluto cercare di essere molto sintetico lo so che su alcuni punti come la fase di selezione avrei dovuto passare ore però ho cercato di darvi una visione più completa e trasversale possibile perfetto grazie mille davvero in realtà sei stato chiarissimo e tra l'altro vorrei giusto accennare una cosa visto che ne usciva la discussione in chat bisogna un po' andare contro questo falso mito e i tuoi dati all'inizio già lo dicevano che l'influencer cioè le persone che noi riteniamo essere influencer facciano riferimento intanto solo a un target basso giovane perché è vero che i dati dicono che i se non sbaglio 16-24 anni come range sono molto più influenzabili dall'influencer ma è anche vero che persone di 30-40-50 anni allo stesso modo seguono gli influencer e ne vengono vabbè erano comunque il 66% esatto quindi questa è la prima cosa la seconda cosa bisogna anche togliersi un po' quel falso mito l'altro falso mito che gli influencer come dicevi anche dall'inizio sono solo la Chiara Ferragni di turno è ovvio che ci sono potenze di esposizione differenti fra una Chiara Ferragni altre persone però è ovvio che se si va a trattare di qualcosa di targetizzato di nicchia diciamo io posso andare a individuare un influencer che è molto meno conosciuto dalla massa ma che a me non mi interessa neanche che sia conosciuto dalla massa che sia conosciuto da quella nicchia perché a me fa influenza sul mio target specifico è ovvio come tutte le cose se io vado a targetizzare ho anche una spesa inferiore ma la massima resa perché ovviamente andare alla Chiara Ferragni non solo mi costa tantissimo ma andrai su un target proprio variante come dicevo questo è mio obiettivo di cosa devo fare esempio oggi in parte i webinar che fate sono degli esempi di influencer marketing ovvio che l'aver chiamato me non è perché ho una grossa audience è il fatto che per te era importante avere un certo tipo di competenze di know-how da veicolare al tuo pubblico per produrre interesse su la tua audience giusto per farti un esempio quindi dobbiamo essere un pochettino più elastici e appunto capire in base al progetto e all'obiettivo c'è una necessità è ovvio che a volte ripeto se devo fare un lancio di prodotto e c'è da fare awareness ovvio che la VIP di turno la celeb di turno è ancora utile per altri tipi di progetti molto probabilmente non avrebbe tutto questo senso è fondamentale ricordarsi davvero che come in tutte le attività di comunicazione sono gli obiettivi che ci prefissiamo a comandare perché altrimenti tante aziende troppe ti dico anche aziende grosse multinazionali in cui lavoro partono purtroppo fanno il processo contrario partono dalle cose più divertenti quindi si inventano scelgono il canale perché TikTok adesso va di moda scelgono la creatività perché è figo farla o scelgono il creator ho visto che lei è molto attiva su Twitch mi piace senza dimenticarsi che può arrivare dopo all'obiettivo ed è un cortocircuito che può essere estremamente pericoloso sia a livello di risultati che di conseguenza di costi perché oggi come oggi usare gli influencer ha un costo costa tanto coinvolgere gli influencer anche quelli un pochettino più piccoli quindi dobbiamo essere veramente bravi e i dati ci devono aiutare in tal senso a creare il progetto giusto se no rischiamo di buttar via di non creare performance e di risultati e comunque ad aver investito cifre rilevanti certo correttissimo correttissimo va bene allora intanto grazie per la presentazione adesso è il momento delle domande quindi se volete fare delle domande è il momento buono per farle nella sezione ask a question allora devo dire che sei stato super esaustivo e dettagliato in tutto quanto anche a livello di domande non abbiamo decine di domande ma proprio perché sei stato chiarissimo ovviamente le domande sono principalmente sui tool che hai menzionato ok parto dalla prima anche se non è la prima in elenco ma te lo devo chiedere hai menzionato questi tools e hai detto che hanno un determinato costo è ovvio che i budget di chi poi gestisce siti blog e quant'altro e piccole attività non sono sempre altissimi ci sono dei range di prezzo che puoi dare su questi tools che hai ti dico guarda solitamente sono tool che costano dalle 4 500 euro mensili in su te lo dico proprio ma perché come tool di analisi delle conversazioni utilizzano le API e queste API hanno ovviamente un certo tipo di costo purtroppo non è che sono esosi diciamo che però alcuni tips che vi ho detto e per alcuni settori già al vivere il vostro settore online poi tarvi i gruppi di settore su Facebook LinkedIn ci evidenziano spesso alcuni figure che hanno comunque un certo tipo di esposizione è ovvio che in molti casi magari per un'azienda può non avere senso spendere 500 euro al mese per un tool quindi spesso può avere senso magari contattare agenzie come la mia ma come può essere anche Bazool come può essere Open Influence in totale trasparenza di cito anche altre magari farsi dare una mano non solo per strutturare un progetto ma magari semplicemente per lavorare a delle schede di valutazione di potenziali influencer in target purtroppo lo so che i costi non sono banali però sono anche tool molto elaborate quindi ovviamente hanno certi tipi di spesa ecco ok la prossima domanda invece è un po' più specifica diciamo specifica nello stesso modo nel senso che chiede Claudio come si fa a capire orientativamente il budget corretto che un influencer può chiedere e chiede anche come calcolare se il prezzo che questo influencer richiede è corretto in relazione alla nostra ROI al nostro ritorno all'investimento allora assolutamente ti dico che purtroppo siamo in una fase in cui è talmente alta l'esposizione e la richiesta di creator che il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro non esiste un prezzario purtroppo io a volte ho influencer che hanno gli stessi dati le stesse performance e uno ti chiede mille e uno duemila perché non c'è un perché quindi non è facile ve lo dico sinceramente ovvio l'esperienza aiuta e purtroppo se io voglio lavorare con un influencer può anche essere tanto quei duemila euro ma se voglio lavorare con lui devo dargli quei duemila euro quindi è una fase anni fa quando io sono partito a fare questa attività mandavi due prodotti omaggio all'influencer di turno ti faceva sedici post e ti chiedeva perfino se voleva venire a pulire l'ufficio purtroppo è ribaltata adesso la situazione come fare a valutarlo sicuramente l'esperienza ci aiuta noi attraverso l'onim nei report che condividiamo li potete richiedere sul sito www.unim.it abbiamo degli diciamo degli specchietti dove diamo dei costi medi divisi per canali e numero di follower altrimenti ci sono dei tool che ci permettono di fare una minima valutazione uno di questi si chiama instagram money calculator calcolatore di soldi per instagram dove io inserisco il nome utente instagram di un utente di un influencer e lui in base ai suoi post al suo engagement rate mi calcola quello che sarebbe il suo valore equivalente cioè quanto dovrei pagare in budget advertising su instagram per ottenere gli stessi risultati è un'idea di massima vi dico che quello sarebbe il giusto modo perché dovrei pagare per quanto producono ti dico che anche però luca che oggigiorno il prezzo poi reale che ti chiedono non è mai quello quindi non è che poi potete andare dall'influencer e dirgli guarda il tuo valore equivalente risulta 600 non 1500 quindi vi tocca un po' sopportare questo ti dico molte volte a guidare il budget che avete purtroppo poi sono cose che con l'esperienza uno accumula noi è ovvio che chi lavora nel mio settore dopo un po' ha un'idea di quello che è la resa diciamo però però diciamo che di massima il valore equivalente può essere una base a cui dovete immaginarvi dover per forza aggiungere un quid 30-40% però può essere un minimo di base un'altra cosa può essere che se 5 influencer con caratteristiche simili anche a livello di qualità dei contenuti ti chiedono 1000 il sesto ti chiede 2500 euro molto probabilmente un'idea di media quindi magari chiedete sempre se ce la fate più preventivi anche proprio per avere un range cioè se la media di settore magari non è quella corretta ma purtroppo è il mercato per far prezzo quindi se 5 influencer food su 6 ti chiedono 1000 euro se anche il prezzo più giusto per quello che producono sarebbe 500 ragazzi purtroppo in questo momento ripeto il coltello a parte il money che loro certo poi chiedeva adesso visto in chat se potevi girare il link comunque guarda ti cito il nome se lo fate se lo digitate su google lo trovate dopo domani vi giro anche il link però se fate instagram money calculator trovate comunque sto dicendo domani con la presentazione della registrazione inserirò anche io personalmente poi quelli che sono i link che sono stati citati non vi preoccupate prossima domanda perché se no andiamo veramente fuori tempo cerchiamo di accelerare un po' esiste un modo gratuito per verificare se i follower sono acquistati allora sì ci sono tool come per esempio ninjalytics che adesso si chiama not just analytics una volta si chiamava ninjalytics non è un tool di influencer marketing ninjalytics ma su instagram ci permette di vedere se l'influencer partecipa a gruppi di pod quelli dove ci sono gli scambi capire se più che altro più che acquistarli capire se c'ha utilizza sistemi di follow non follow altri tool come quelli influencer marketing ti permettono invece di vedere come avete visto se hanno follower afghani per dire o indiani o ciecoslovacchi c'era una volta hype auditor che ti dava questo ma ha smesso di darli quindi purtroppo non si è rimasto male però già not just analytics ci aiuta un po' ripeto non è un tool di influencer marketing che non ci dà per esempio tutto quello spaccato su età dell'audience però è già un buon tool per capire quantomeno se la crescita è naturale del creator se ci sono meccanismi e lo so Claudio una volta era costodissimo una volta dava delle ricerche free oggi non le dà più purtroppo da una metà a questa parte e una volta quindi era un pochettino più facile fare queste valutazioni purtroppo adesso questi tool tendenzialmente sono tutti veramente a pagamento però come avete visto danno se dovete investire è un valore aggiunto importante si danno un sacco di dati chiede Michele sempre rimanendo sul gratuito se è possibile ovviamente chiede dice se consiglio qualche software gratuito sebbene incompleto per fare qualche analisi di dati sui social purtroppo non di tool gratuiti lato influencer marketing non c'è quasi niente lato analisi social vi dico fanpage karma ha dei costi accessibili e not just analytics ha dei costi assolutamente accessibili però non sono tutti influencer marketing quello che vi ho fatto vedere io non lo fa vedere vi dico inflid questa inflead questa startup tristina lavora anche a token voi potete comprare dei crediti che potete spendere in tot di crediti per fare le ricerche per fare le analisi c'è un minimo di tool di crediti acquistabili che non mi ricordo quanto sia ragazzi però se andate sul sito di inflid potete potete vedere e lavorando a token può essere più utile perché voi non pagate l'abbonamento ma avete la fortuna magari di pagare su un tot di crediti mi sembra c'è da prendere qualche centinaia euro di crediti però magari li prendete una volta e lo utilizzate in un anno giusto per farvi un esempio per esempio ci sono altri tool come anche IQ Data che non lo utilizziamo che lavora con i token però per esempio il minimo acquistabile sono 4000 euro di token e ogni 6 mesi si riazzerano quindi se non lo utilizzate massivamente come facciamo noi TabBuddy TabBuddy funziona molto bene per YouTube per esempio è un tool di quelle che viene utilizzato molto per per fare analisi su YouTube per fare un esempio poi domanda però ripeto molti di questi tool sono più di analisi social che non di influencer cioè sì sì no no infatti la domanda molto di quello che vi ho fatto vedere non era troppo come anche i tool di analisi delle conversazioni online alcuni ve li ho fatti vedere sono costosissimi si parte dai 5-600 euro di Talkwalker in su c'è qualcosa che costa meno per esempio Avario Avdopaario che mi sembra che con qualche centinaia euro lo prendete se no mention si scrive un tool che non arriva a questo livello di analisi ma un tool che ha un entry level di un centinaio di euro funziona abbastanza bene purtroppo non ci fai le analisi che vi ho fatto vedere con l'intelligenza artificiale e altre so che mi dai so che è sempre brutto far vedere questi tool costosi però non non piacciono nemmeno a me però lo stato dell'arte è questo e so che anche quando faccio corsi all'università mi dicono tutti ma non c'è niente di gratis no perché purtroppo le API questi dati si fanno pagare i social per darli a questi altri social e quindi a questi altri tool e quindi va bene no no ma è chiarissima è ovvio questa è l'offerta del mercato chiede invece Marco i tool permettono di scoprire per aree geografiche a livello nazionale gli influencer anche anche locale ah ecco esatto la domanda è quella perché se dice ad esempio voglio spingere qualcosa in città anche io posso addirittura fargli Lombardia e addirittura gli posso fare Milano è ovvio che più si va a restringere magari su luoghi che con tutto rispetto non è Milano ma è non lo so Terra Cina magari è meno perfetto il tool quindi attenzione però calcolando sempre che poi a me non mi deve interessare tanto di dov'è l'influencer mi deve interessare di dov'è la fanbase io posso abitare anche in Lapponia ma se l'80% sto facendo un'esagerazione ma se l'80% dei miei follower è di Roma io per un progetto che deve parlare di Roma tendenzialmente posso ho impatto quindi anche lì attenzione spesso perché molti di questi tool ci permettono di fare queste analisi sull'influencer quindi l'età il sesso la localizzazione degli interessi dell'influencer ma ancora più importante sulla fanbase e a me tendenzialmente a parte che non sia un prodotto un progetto particolare in cui devo parlare di femmine empowerment è importante anche magari capire a Milano che quindi è importante anche capire che quell'influencer che scelgo sia fame donna e di Milano tendenzialmente a me interessano le caratteristiche della fanbase sono quelle che a me devono interessare perché devo andare a parlare devo andare a parlare a utenti che sono vicini alle mie buyer personas che hanno quelle caratteristiche mi raccomando che molte volte si fa questo errore ma questo influencer è di Roma è 18-24 no benissimo ma non è detto che abbia le caratteristiche idonee la sua audience rispecchi quelle caratteristiche chiarissimo allora per non sporare troppo direi facciamo ancora due o tre domande se va bene ma figurati non ho allora prossima domanda come crescere nel campo dell'influencer marketing ci sono corsi o percorsi per diversificare la propria attività di marketer che piccola premessa intendi crescere lato diventare influencer o crescere come consapevolezza diventare professionista di influencer marketing come marketer lui dice proprio come marketer allora come marketer ti dico quasi tutti i principali corsi ormai universitari e master io insegno in diverse cose non dirò dove ma le hanno integrate adesso non per dire che io insegno ma perché le hanno comunque integrate e quindi è possibile ci sono tanti corsi io ho un corso su ninja ma lo stesso ci sono corsi anche su studio SAMO tutte le principali prestate non starò qui a farvi la lista dell'aspetto ninja di ninja marketing giusto ninja marketing ninja academy di ninja marketing ma anche studio SAMO ma un po' tutti i principali ormai player di corsi online hanno dei corsi dedicati all'influencer marketing tendenzialmente sono tutti discretamente la content del mio amico Cristiano Carriero ci sono comunque dei corsi molto validi tanti vi toccherà sentire i miei vi dico perché sono tra quelli che le fa di più però tendenzialmente ci sono tanti bravi professionisti online che fanno che fanno che fanno corsi quindi vi potrei citare Cristiano Carriero Francesca Di Ceccio ci sono anche scrivendo Matteo Pogliani corsi influencer marketing odio vendere solo i miei lo sto facendo io lo sto facendo io lo sto consigliando ci sono comunque corsi lato crescita vi dico sicuramente quello che facciamo con Onim è interessante con l'osservatorio perché potete comunque vedere dati white paper informazioni relative che vi permettono un po' di stare di stare sempre più sul pezzo e dovete veramente vivere i social il consiglio migliore perché i creator ormai sono centralissimi quindi il metodo migliore veramente sembra dire grazie al cosiddetto però stare sui social è il miglior modo per respirare l'area l'area dei social e vi dico quasi tutte le dimensioni se siete giovani anche pensare di fare un'esperienza con qualche agenziale che quasi tutte le agenzie poi ci sono quelle estremamente specializzate come la mia ci sono altre che le integrano meno noi lavoriamo per tante agenzie più grosse o centri media quindi molti però può essere anche un interessante lavorare in tal senso anche perché è molto particolare lavorare serve un ibridismo molto forte lavorare in influencer marketing serve data scientist come una serve un approccio da data scientist come avete visto serve un approccio da social media perché se non conosco i formati dei social non posso creare bene dei progetti serve un approccio da PR perché devo gestire i rapporti con i creator e con il brand quindi è una secondo me delle attività lato digitale che serve veramente una trasversalità molto ampia quindi è molto divertente vi dico fare i progetti influencer marketing che tra l'altro sono i progetti secondo me più creativi ad oggi ad oggi la creatività sul digitale vi ripeto non è la bella grafica o l'headline ma piegare gli strumenti e devo dire che l'influencer marketing permette di fare questi progetti diciamo con questo senso di creatività intesa come attivazione digitale infatti sono i progetti principi del cosiddetto brand activation ok chiarissimo chiarissimo veramente sto leggendo una domanda di Elisabetta che è veramente specifica interessante comunque lei dice io come target ho persone tra i 40 e gli 80 anni nel lusso ok quindi il target è di lusso 40-80 a Roma sono tutti stranieri i suoi target diciamo presi in tutto il mondo la sua domanda è queste persone che acquistano il servizio una sola volta quindi è one shot per queste persone ha senso cercare un influencer o dovrebbe trovarne uno per ogni continente uno per ogni nazione e lavorare in questo modo? dipende dipende da quante sono perché trovare uno che cioè ce ne sono quelli che vanno bene per tutte le stagioni adesso mi dirai anche qui mi dirai bravo Matteo l'hai detta facile Cristiano Ronaldo va bene per tutte le stagioni con il senso in questo caso dipende ci sono influencer che comunque sono abbastanza trasversali quindi ti dico magari hanno una fanbase ibrida tra Stati Uniti magari Inghilterra calcola che alcuni settori il lusso è uno di questi sono abbastanza trasversali magari non ti toccherà prendere uno per paese magari ti toccherà però prendere due o tre di solito chi lavora nel mercato anglosassone è abbastanza attivo sia negli stati cioè ha comunque una fanbase attiva vista la lingua che usa sia lato Stati Uniti che Australia che UK quindi può aver senso quello che ti posso chiedere è che spesso questi influencer calcolate che i mercati esteri costano di più quello che costano influencer in Italia in UK è per due negli Stati Uniti è per tre o quattro solitamente quindi va devi fare i conti di quanto è il costo di attivazione visto che te vendi una sola volta quel prodotto e vedere in base al costo del creator se ha senso calcolando che nel tuo caso secondo me parliamo di un servizio non potresti pensare a un progetto one shot non è che gli puoi fare due set di stories e ciaone devi sedimentare in modo da che lui diventi in maniera autorevole l'intermediario come racconto come storytelling dell'experience che ti proponi certo visto che lei offre te lo dico io perché l'ha scritto offre tour di lusso a Roma per stranieri direi che c'è tutta la possibilità di creare un engagement una storia ti do un consiglio gratis io qui lavorerei con un experience un po' nel medio e lungo con quell'uno due o tre creator in modo da coprire le tue anche qui puoi partire dal mercato che ti rende di più come test io lavorerei inizialmente facendogli sedimentare di contenuti in cui lui questo influencer racconta che sta per iniziare questo facendogli vedere il percorso anche di avvicinamento di come te fai customer care pre-attività portandolo in loco a fare l'esperienza cioè facendogli raccontare anche il post facendogli veramente vivere l'experience perché in questo caso sarebbe il miglior modo perché lui diventa veramente un testimone credibile perché non è il brand a raccontarlo di questa esperienza certo no no chiarissimo ovvio ovvio che andate sul sito e vedete l'esperienza viaggi di lusso oggi non credo che funziona funzionalissimo ecco ok dicevo faccio l'ultima domanda visto che chiudiamo a un'ora e dieci dai chiudiamo ma non è un problema ormai quando vi dedico tempo sono qua sono contentissimo grazie ancora allora ho visto che aveva fatto la domanda Daniele in chat quindi andiamo con questa chiede per un social mention azzur potrebbe essere utile sì azzur funziona bene funziona molto bene anche su quello che riguarda l'image recognition è un tool non banale però diciamo ecco anche qui si va si va su soluzioni non banalissime vi dico anche a te ti piace spendere Daniele però sì ormai tutti ce ne sono tantissimi vi ripeto lato social listening c'è qualcosina un po' più a risparmio vi ripeto insomma mention è un ottimo strumento anche se non permette distinguiamo tra i tool che permettono magari di 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 avere degli alert quando qualcuno parla di te e dei tool come avete visto che a me permettono di fare delle analisi delle ricerche un pochettino è un pochettino è un pochettino diverso vi ripeto in questo caso magari trovare una realtà di riferimento dove magari gli potete chiedere di farvi delle ricerche magari poi gestite voi il progetto risparmiando su tutto a quel costo lì magari chiedete con un budget magari non enorme un'agenzia dedicata all'influencer marketing magari vi restituisce 5, 10, 15 profili on target sul vostro progetto il vostro obiettivo e poi voi ve lo gestiteli contattate contrattate la parte di costo e gestite il progetto può essere una una base di partenza rilevante perfetto perfetto chiarissimo guarda io non so come ringraziarti perché sei stato grazie a voi dell'invito perfetta di tutto chiarissima veramente e il mondo dell'influencer marketing è interessante il motivo per cui ho voluto è uscito non so cosa è successo è saltato siamo un attimino mi senti? ti vedo ho visto che è saltata la telecamera ti stavo facendo i complimenti ti sei emozionato ma ti sento ti sento ma non so perché scusate eccomi scusate era andata una di appresa un attimo grazie a voi per l'invito è sempre un piacere stavo dicendo che appunto l'influencer marketing comunque l'ha voluto affrontare come argomento perché è sicuramente interessante tutt'oggi io ho ricevuto delle domande simili a quelle che sono state fatte a te soprattutto ovviamente si va sempre a parlare sui costi sempre sui costi quanto può costare è normale quanto può costare in totale trasparenza guarda voglio essere calcolato che un progetto che abbia scenza ad oggi visto l'impatto degli influencer è un progetto che difficilmente scende sotto i 10k perché anche fare un progetto per coinvolgere un influencer una tantum magari spendete veramente 2-3 mila euro ma lascia il tempo che trova cioè l'impatto che genera non giustifica il prezzo quindi creare un progetto con almeno un numero seppur minimo 2-3-4 influencer non target facendogli fare una serie di contenuti che non dico sono 100 post ma nemmeno un set di stories e via difficile non stare sotto i 10-15k mi dite costa tanto sì non costa poco lo dico sinceramente è ovvio che magari come base di partenza lavorare con magari micro influencer e magari lavorando con dei profili che magari ad oggi non hanno numeri folli ma hanno una nicchia interessante anche a livello di test e di prime relazioni può essere interessante esatto che è quello che consiglio sempre io per iniziare può essere una prima via ecco certo no no è vero va bene grazie davvero l'ultima cosa che ti dico che in realtà non è inerente all'influencer marketing ma ci tengo visto che noi parliamo sempre del mondo digitale e di WordPress anche se questa sera in realtà non ne abbiamo parlato ma giusto per farvi sapere che il 22-23 ottobre per chi è interessato ci sarà WordCamp Italia e se non sapete che cos'è è l'evento più grande italiano dedicato a WordPress dove si parla di tutte quelle che sono le funzioni gli strumenti utili per migliorare la performance sicurezza e quant'altro del proprio sito WordPress quindi si va a incontrare quella che è la community WordPress io vi invito a partecipare perché è gratuito è online ovviamente visto ancora le restrizioni che si stanno allargando ma comunque si è deciso di farlo online io stesso parlerò lì e farò una presentazione sulla creazione di canali di vendita tramite per chi ha un sito WordPress parleremo dei cookie less policy che verranno tra poco a partire dal 2022 si parlerà di tante cose interessanti quindi partecipate anzi lascio anche il link qua visto che è gratuito prendetevi il vostro miglietto ce ne sono cento ancora disponibili quindi vanno vanno a ruba e detto questo io ti ringrazio ancora Matteo a voi davvero grazie dell'invito a te Luca è sempre un piacere insomma ci vediamo con un altro argomento che invece varia parleremo di search engine engine optimization quindi di SEM si parla di cose serie la prossima parliamo di cose un po' magari più complicate nel dettaglio per andare a vedere come lavorare ovviamente su motori di ricerca e grazie buona serata buona serata a tutti ciao 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 ciao